da sindaco voglio fare qualcosa molto per gli animali sono stato presidente per un anno dell'amp associazione nazionale protezione animali ed ambiente ecco vedete vedere questi gattini qui che sono soli sono randaggi e che io vorrei fare un qualcosa di più grande cioè far sì che vi siano delle strutture in grado innanzitutto di accogliere i felini così come anche i cani ove possibile andando a sfruttare quelle aree enormi di proprietà del comune e allocare lì liberamente gli animali non tenerli nelle gabbie dei canini ma anche muoverci molto per la figura del gatto o del cane di quartiere cioè per far sì che i nostri amici a quattro zampe possano davvero essere integrati con il territorio e allora grandi aree in cui gli animali siano liberi non i canili non le gabbie gli animali devono essere liberi ma anche ma anche la questo rapporto diretto con i cittadini il gatto o il cane di quartiere adottato appunto dai cittadini dalla collettività dai quartieri ecco il 12 giugno una croce secca su luigi abbate sindaco e su taranto senza ilva io ci credo crediamoci insieme